Lasciati qua. Sei quant'è ora? Sei quant'è ora? Prendi un parire di te che non dà 5 euro, perché? Vai in Tissandro. Sei quanto un hotel l'anno libero. Rimano? Rimano, rimano. Vai, Sam. Ridingo. Ridingo. Kungライ da Sina conozchi repudi adslaya. Adelora. Voteria. ahahahah ahahahah ahahahahahahah ahahahah ahah ahah aah a Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.